ok siamo qui con barbara al forum di richmond innanzitutto adesso compileremo il nostro ciak adesso scoprirete cos'è ok allora adesso aspettate battere il ciak vado pronta è la prima volta che partecipi al forum poi già partecipato a questo forum si a questo dell'e commerce mai partecipato ad altri partecipato ad altri di forum ma non questi qua ok e cosa ne pensi cosa vabbè si è appena arrivata però cosa cosa ti lascia questo forum è sicuramente degli stimoli degli spunti che possono servire per per migliorare e incrementare la nostra struttura certo un lavoro organizzativa anche mai partecipato delle conferenze stamattina si sulla customer come migliorare la customer experience cosa ne pensi mi ha dato molti spunti interessanti infatti ho chiesto anche un contatto per sì comunque poi aiuta comunque a trovare anche dei contatti delle relazioni esatto ascolta adesso ti faccio fare un giochino mi riassumi in una parola che cosa che cosa ti lascia questo forum che cosa diciamo ti viene in mente pensando a questa esperienza e me la scrivi qui ma all'incontrario al contrario si perché come vedi è una maglietta di plexiglass la cosa bella è che noi scopriamo questa parola guardandola cioè loro la leggeranno dritta quindi tu la devi scrivere all'incontrario quindi pensa alla parola e se vuoi te la tengo ok vado vai ma se faccio così faccio così faccio così faccio così faccio così crescita una parola c'è una s vabbè dai è stata brava però va bene facciamo una foto con la nostra parola è dritta così va bene grazie mille barbara è stata gentilissima grazie alla prossima ciao 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 ciao